a fammi distrere un attimo la parola prova prova metta il lontaggio qui forse lo la 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 salve a tutti benvenuti qua da Branditos per questa Rock in the Woods seconda edizione la prima edizione l'abbiamo fatta penso prima dei lock danno vari eravamo tutti quanti ignari di quello che sarebbe successo però adesso ci siamo riuniti abbiamo colto quest'occasione di questo sabato per vederci tutta questa compagine di artisti rock di Torre del Greco e anche affini perché ci sta il gruppo i ragazzi che vengono da Pomigliano e dintorni che ormai sono quasi come diceva prima Pasquale sono quasi di adozione torresi ti manderemo il sindaco Palomba fino a Pomigliano allora i gruppi che ci sono stasera sono Blackstone River Blake, Ride, Zizzania James, Callag, forse se arriva mi pare che l'aereo era in ritardo ma arriverà sicuramente e poi c'è scritto sotto in France perché in France sono tutti gli amici che non hanno un gruppo fisso che vengono più tardi, finiscono di lavorare e quindi suoneranno in forma di jam session a fine serata grazie a tutti benvenuti qua da Branditos ringraziamo i ragazzi che stanno lavorando oggi con noi Francesca e Francesco che stanno giù in cucina Michela, Alessandro, Mauro i ragazzi Francesco, Chiolone Branditos e il nostro Alessandro ringrazio e buona musica cominciamo con i Zizzania un saluto da Costino San Marco comunque lui sia sui mari del mondo a tutti grazie a tutti Proffi! Grazie a tutti. 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 Sono venuto a studiare la brugna endemica che si trova lì. Grazie a tutti. 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 Voglio salutare il sindaco di Rocca Secca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. Wow. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 all'idea. ölöööööööööööööööööööööööööööözeadpt객sssssssssssssysssssssssssss î2019 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti